Ciao a tutti ragazzi, bentornati su The Guardians, in questo rapido video riguardante i trofei slash obiettivi di Destiny 2. Ebbene sì, ormai sempre più a ridosso dell'uscita cominciano ad esserci dei leak più o meno non voluti riguardanti al gioco. Quest'oggi è toccato la lista parziale, e vedremo dopo il perché, dei trofei, che gira e rigira saranno gli stessi della versione Xbox. Alcuni di questi contengono spoiler, quindi questo è il momento giusto per chiudere il video, e magari passare a vedere gli altri video usciti sul canale proprio in questi giorni, o lasciare un like a questo video e ad iscrivervi proprio al canale se è la prima volta che passate di qui. E questa era la vostra ultima possibilità di chiudere il video, perché la lista dei trofei è ora su schermo. Come già detto, non è la lista completa, ma solo parziale, come faccio a saperlo? Mancano i trofei di bronzo, innanzitutto, e poi sono veramente pochi se comparati a quelli del primo capitolo. Andiamo però a dare un'occhiata a quello che abbiamo. Platino a parte, che richiede di ottenere prima tutti gli altri trofei, troviamo strada lunga e tortuosa, raggiungi il livello 20, che sappiamo essere il level cap massimo inizialmente raggiungibile al 99% tramite esperienza, di conseguenza non è influenzato da armature e armi. Raggiungeremo questo livello nel corso della campagna, e sarà poi il punto di partenza per le attività endgame. Dopo di questo, troviamo degli obiettivi specifici per ogni classe. Obiettivi che acquisiremo ottenendo tutte le sottoclassi, che vi ricordo essere 3 per classe, come abbiamo anche visto dai video pubblicati proprio in questi giorni, e questi obiettivi sembrano legati alla storia, visto che queste sottoclassi dovremo ottenerle giocando, e non ci saranno date già tutte all'inizio del gioco. Mostrami cosa sai fare, ci chiede di completare chiamata le armi di Shaxx. Essendo un personaggio legato al crogiolo, questo trofeo avrà sicuramente a che fare col PvP. Io la butto lì. Magari è un'impresa sulla falsa riga di quelle di The Taken King, quindi giocare ad ogni modalità e con ogni fazione per farla semplice. Per arginamento dovremo completare un focolaio. Interessante scelta di traduzione per quanto riguarda i flashpoint. Eroicità popolare riguarda completare un evento pubblico in modalità eroica. L'attivazione della modalità non è del tutto automatica, e spetterà a noi capire cosa fare una volta iniziato l'evento pubblico. Completare un cala la notte ci sbloccherà cuore dell'oscurità. Vi ricordo che questa volta questo tipo di assalti dovrebbe avere equipaggiamento bloccato, il che significa che non ci sarà data la possibilità di cambiare equipaggiamento una volta iniziata l'attività. Quindi pensate bene a quello che vi portate in battaglia. Uno dei trofei che ritorna è la vita esotica, con i suoi 15 pezzi esotici da raccogliere. Mi auguro che in tutto gli esotici non siano solamente 15, e che sia stato scelto questo numero per dare la possibilità a tutti di sbloccare il trofeo. Presumibilmente, completando 30 sfide del libretto sbloccheremo sfida accettata, e proseguendo troviamo la pancia della bestia. Completa l'incursione, il Leviatano. Quindi il nome del ride, attenzione attenzione, sarà il Leviatano. E, per quanto il nome possa essere familiare agli amanti delle carte Grimoria, con molta probabilità il ride si svolgerà sulla nave di Gaul, e non su qualche pianeta sconosciuto. Sempre legato all'incursione, e volendo anche al cala la notte, è Autorità, ossia completare una di queste due attività in modalità autorevole. Difficoltà che potrebbe essere solo una rinominazione della modalità eroica, oppure più semplicemente una nuova modalità. Infine abbiamo Paura del Giudizio, incontra l'Emissaria. Non sappiamo chi sia questa emissaria né come fare per incontrarla. Potrebbe essere legata a Xur e ai 9, alle cosiddette prove dei 9, o a qualcosa che scopriremo successivamente. E questa era la lista attuale dei trofei di Destiny 2. Trofei tutto sommato in linea con quelli del primo capitolo. Non eccessivamente difficili da ottenere, a quanto sembra, ma comunque abbastanza stimolanti per tutti quelli che andranno alla ricerca del platino. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e lasciate un like al video per mostrarci il vostro supporto. Se siete arrivati fino a qui senza essere iscritti al canale, rimediate subito attivando anche la campanella per ricevere una notifica ogni volta che un nuovo video sarà online. E passate a trovarci anche sui social per rimanere sempre aggiornati sulle nostre attività. Da Shanks quindi è tutto, passa e chiudo.